Lo schema compositivo del suo Vangelo, Marco è rimasto fedele all'antica tradizione apostolica. Conserva cioè lo schema kerigmatico della prima predicazione tenuta dagli Apostoli, uno schema molto semplice dove non si racconta tutta la vita di Gesù, né si vuole ricostruire la storia dettagliata delle sue azioni, ma si raccoglie in modo organico, letterariamente saggio, il materiale che era stato predicato oralmente. Il kerigma delle origini è il contenuto della predicazione apostolica, che comincia sempre dalla predicazione di Giovanni Battista, con l'inizio del ministero di Gesù in Galilea, caratterizzato dalla predicazione alle folle e segnato da molti miracoli. Poi c'è uno spostamento dalla Galilea a Gerusalemme, la ultima parte del ministero di Gesù in Gerusalemme, che si conclude con il dramma della crocifissione e della risurrezione. Questo è lo schema che anche Marco segue e conserva la originale predicazione apostolica, soprattutto di Pietro. Il lavoro che l'Evangelista Marco ha compiuto è un lavoro di tipo redazionale. Ha organizzato il materiale che aveva a sua disposizione per guidare i Catecumeni di Roma alla professione della fede. È un modo, quello di raccontare di Marco, che coinvolge l'ascoltatore, lo attira nel racconto, in modo tale che l'ascoltatore possa ripercorrere il cammino dei discepoli e arrivare alla professione di fede. Questo è in sintesi il cammino che Marco vuole far fare ai suoi ascoltatori e organizza tutto il racconto in due parti principali. La prima culmina con la professione di fede dell'apostolo Pietro. La seconda culmina con la professione di fede del centurione romano ai piedi della croce. Due parti che raccontano un unico cammino di fede, con due vertici, due punti di arrivo. Nella prima parte c'è il riconoscimento di Gesù come il Cristo. Nella seconda parte il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio. Il titolo che l'opera ha è espresso nel primo versetto del primo capitolo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio. Non è il testo del racconto, non ha senso che un racconto cominci con il dire questo è l'inizio del Vangelo. Dobbiamo anzitutto capire che Vangelo non indica il libro, ma il contenuto della predicazione. Marco vuole riassumere con questo titolo il contenuto del suo libro, che riguarda la bella notizia. Evitiamo la parola novella, è arcaica, ambigua ed equivoca. Vangelo, in greco euangelion, significa buona notizia. Da dove è venuta fuori questa notizia? Ecco il senso dell'arche, origine di questa notizia. Marco vuole raccontarci da dove è nata la predicazione di coloro che credono in Gesù e lo riconoscono come Cristo e figlio di Dio. Dobbiamo distinguere bene il nome proprio Gesù dai titoli che gli vengono attribuiti per fede. L'uomo Gesù è riconosciuto dalla fede dei discepoli come il Cristo e dal centurione romano è riconosciuto come il figlio di Dio. In qualche modo il primo versetto, oltre a indicarci il contenuto del racconto, ci offre anche la struttura della struttura della narrazione. In due parti si divide questa origine della buona notizia. La prima riguarda Gesù riconosciuto come il Messia, cioè il Cristo, e sono i primi otto capitoli. La seconda parte riguarda il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio e sono gli altri otto capitoli incentrati su questo vertice della fede. Per riconoscere che Gesù è il figlio di Dio è necessario vederlo vederlo sulla croce, vederlo morire in quel modo e incontrarlo risorto. Non basta la professione di fede cristologica che riguarda cioè l'attributo del re Messia, è necessario riconoscere che il Messia deve morire e risorgere. Il mistero pasquale è il vertice della rivelazione di Cristo e solo chi partecipa personalmente alla dinamica di morte e risurrezione di Gesù può credere in Lui. Se accettiamo l'ipotesi che questo Vangelo sia nato per essere la lettura della notte di Pasqua in cui si celebrava il battesimo degli adulti, comprendiamo facilmente che l'Evangelista voglia accompagnare per mano i catecumeni in questo cammino di fede. Hanno già ascoltato, si sono già formati, hanno già aderito a Gesù. Adesso, nell'evento liturgico, ascoltano la predicazione apostolica, entrano in questa dinamica di crescita, riconoscendo che Gesù è il Cristo e partecipando alla sua Pasqua di morte e risurrezione, credono che sia il figlio di Dio. A questo punto sono pronti per essere immersi nelle acque battesimali ed emergere risorti, figli di Dio, partecipi della Eucaristia, membri della Chiesa. Il Vangelo di Marco ci presenta quindi l'itinerario del catecumeno che diventa credente maturo. È un percorso di iniziazione cristiana e ha al centro la figura di Gesù. È lui che si rivela in modo straordinario. Come narratore, Marco è molto attento ai propri destinatari e racconta in modo brillante e vivace per tenere destra la loro attenzione, per coinvolgerli e far sentire Gesù come presente nella realtà di queste persone. Anche la lingua ne risente. Marco, scrivendo a Roma, usa diversi termini tipicamente latini. A Roma nel primo secolo si parlava correntemente il greco. La capitale dell'impero aveva un milione di abitanti, la gran parte dei quali proveniva da tutte le parti del mondo antico, ognuno con la propria lingua, e il linguaggio che li accomunava tutti era il greco. Così qualche anno prima San Paolo ha scritto ai Romani una lettera in greco e Marco a Roma scrive per i cristiani romani il suo Vangelo in greco. Ma è un greco che ha un sapore latineggiante. Nella traduzione italiana non ci si accorge più di nulla, ma nell'originale greco si notano dei vocaboli che sono tipicamente interromani come centurion. E' centurione grecizzato. Invece Matteo adopera il termine tecnico greco ekatontarches. Entrambi i vocaboli si traducono con centurione e noi in italiano non ci accorgiamo di nulla. Ma gli esperti ci hanno fatto notare che il racconto di Marco ha linguisticamente una patica, latina romana. Vuol dire che l'autore è attento ai suoi destinatari, parla la lingua delle persone a cui si rivolge. Così un altro piccolo dettaglio. Nel racconto della Passione solo Marco dice che Simone di Cirene è padre di Alessandro e di Ruffo. Perché aggiungere questo dettaglio? Il Cireneo viene presentato come genitore di due persone che evidentemente i primi destinatari romani conoscevano. Infatti nell'elenco dei nomi che Paolo saluta alla fine della lettera ai Romani compare anche un Ruffo che probabilmente è il figlio del Cireneo. Dovevano essere membri della comunità e quel piccolo particolare serve a Marco per creare un collegamento fra il personaggio che ha avuto a che fare con Gesù e i suoi figli che sono membri della comunità cristiana di Roma. Nello stesso tempo però Marco è una persona di origine giudaica e la sua lingua madre è l'ebraico e ha sentito la predicazione di Pietro in lingua semitica e ha conservato la memoria delle parole pronunciate da Gesù in lingua aramaica. Infatti è proprio Marco l'Evangelista che più di ogni altro adopera termini tipicamente semitici, riporta delle formule in aramaico trascrivendole senza tradurle, poi le spiega. Ad esempio solo Marco dice che risuscitando la bambina di 12 anni Gesù le dice talità cum, fanciulla alzati. Solo Marco ricorda che Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, furono soprannominati da Gesù Boanerges, espressione dialettale che vuol dire figli del tuono, figli del tuono, evidentemente perché erano due caratteri irruenti che si accendevano subito. Solo Marco dice che l'offerta del tempio è korban, offerta sacra, intangibile. Solo Marco riporta l'espressione l'espressione effatà, è un imperativo nella lingua aramaica, vuol dire apriti. Gesù di fronte ad un sordo muto adoperò proprio questa espressione per ordinare a quell'uomo di aprirsi. Scioglie il nodo della lingua, gli apre le orecchie e quell'uomo comincia a sentire e a parlare. Solo Marco mette sulle labbra di Gesù il termine Abba, che doveva essere la preghiera tipica di Gesù, una espressione familiare e molto importante nella tradizione apostolica. Solo Paolo la ricorda, nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, dicendo che noi cristiani abbiamo ricevuto lo spirito del figlio grazie al quale possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Abba, Papà, termine familiare con cui un bambino si rivolge al proprio papà. Marco mette sulle labbra di Gesù nella preghiera del Gezzemani l'espressione aramaica Abba e poi la traduce con padre. Questo desiderio di conservare le formule originali aramaiche dipende proprio dalla caratteristica che Marco ha avuto di traduttore. Interprete di Pietro ha ascoltato molte volte i racconti dell'Apostolo che in prima persona narrava quegli episodi vissuti con Gesù e li ha tradotti in greco. A Marco sembra bello conservare queste parole nella forma pronunciata da Gesù. È un modo per coinvolgere i suoi ascoltatori, per legarli all'origine. Marco è un vero autore che adopera dei testi già composti per iscritto ma li elabora con sapienza creatrice, con una notevole abilità letteraria. Vediamo dunque la prima parte del racconto di Marco in cui viene presentata la rivelazione progressiva della messianicità di Gesù. Questa prima parte culmina al capitolo 8, versetto 29 con la professione di fede di Pietro, il quale dice a Gesù tu sei il Cristo. Per arrivare a questo riconoscimento ci sono stati diversi passi che i discepoli hanno fatto insieme a Gesù. Questo è l'oggetto del racconto di Marco. Seguiamo nella sua linea compositiva questa prima parte, i primi otto capitoli del Vangelo secondo Marco. Abbiamo già visto il versetto iniziale che costituisce il titolo vero e proprio, sintesi del contenuto e indizio dello schema narrativo. Alcuni versetti sono una introduzione che riguarda Giovanni Battista. Marco non racconta nulla dell'infanzia di Gesù. Presenta l'uomo adulto che improvvisamente compare al Giordano dove Giovanni Battista predicava un Vangelo di penitenza, un annuncio di conversione per poter accogliere l'imminente venuta del Messia. Gesù si presenta come tanti altri e mentre scende nelle acque del Giordano per essere immerso in questo rito penitenziale avviene qualcosa di straordinario, si aprono i cieli. È Gesù stesso che vede i cieli aprirsi e sente la voce del padre che gli dice tu sei il mio figlio di letto. È una rivelazione che riguarda Gesù. Egli stesso in quel momento matura pienamente la propria consapevolezza. È consapevole di essere il figlio di Dio e il Messia. Perciò inizia il suo ministero. Il soggiorno nel deserto è solo accennato, così come il tema delle tentazioni. Marco presenta subito Gesù in azione. Ritorna in Galilea dopo che Giovanni è stato arrestato senza fare concorrenza al battezzatore, anzi prendendo il suo posto proprio nel momento in cui si rivela pericoloso annunciare queste cose al popolo. Marco struttura questa prima parte del suo Vangelo in tre sezioni, potremmo dire tre blocchi narrativi in cui ha raccolto diverso materiale che la predicazione apostolica delle origini gli aveva fornito. Non c'è quindi una ricostruzione storica dei movimenti di Gesù, ma una proposta di testi differenti, appartenenti a generi letterari diversi, che mostrano diversi aspetti della vita di Gesù e non sono stati raccolti con un criterio storiografico cronologico, ma per aiutare un cammino catechistico di maturazione nei confronti della persona di Gesù. Ognuna di queste tre sezioni in cui si divide la prima parte del Vangelo, inizia con un breve sommario, immediatamente seguito da un episodio di vocazione. Infine ogni sezione termina con una nota di ostilità, non capiscono e si rivoltano contro Gesù. La prima sezione inizia al capitolo primo, versetto 14, e termina al capitolo 3, versetto 6. Inizia con un sommario, seguito da un racconto di vocazione. Il sommario iniziale è quello più importante, riassume il ministero di Gesù e il contenuto della sua predicazione. Dice il narratore che Gesù, tornato in Galilea, predica il Vangelo di Dio, la buona notizia della presenza di Dio. Il contenuto di questa predicazione è riassunto nella formula il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quattro verbi, quattro brevi frasi, due all'indicativo, due all'imperativo. Anzitutto due affermazioni. Ciò che compie Dio. Il tempo è compiuto, siamo arrivati al momento buono, l'evento decisivo è giunto, ci siamo. Il regno di Dio si è fatto vicino. Dio che è re, signore e sovrano universale è presente qui e adesso. Gesù annuncia che nella propria persona Dio è presente e Dio inaugura il suo regno attraverso la presenza storica di Gesù. Questo è il kairos, il tempo buono, l'occasione propizia da non lasciar perdere. Dato questo annuncio ne seguono due esortazioni. Convertitevi, metanoeite, cambiate nus, cambiate modo di pensare, modificate la vostra mentalità umana e fidatevi di questa bella notizia. Credere al Vangelo vuol dire accogliere con fiducia la predicazione di Gesù, che è la bella notizia. Accogliere cioè la presenza di Dio re, sovrano, signore dell'universo, nella concreta umanità di Gesù. Questa è la sintesi di tutta la sua predicazione. Credere a questa predicazione vuol dire riconoscere che Gesù è il Cristo. Subito dopo il sommario c'è il primo episodio di vocazione. Gesù chiama quattro discepoli, i primi, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. E loro, abbandonando le reti e la pesca, seguono Gesù. Il primo episodio del Ministero pubblico di Gesù è ambientato in sinagoga e il racconto del primo miracolo secondo Marco è quello di un esorcismo. Marco dà grande peso a questi gesti potenti con cui Gesù libera l'uomo dal potere diabolico. Marco vede nell'opera di Gesù un grande esorcismo, cioè una liberazione dell'umanità dal potere del male che tiene schiavo l'uomo. E in questi casi di possessioni diaboliche manifesta la potenza liberatrice di Dio attraverso l'umanità di Cristo. Gesù entra in sinagoga in giorno di sabato e predica, annuncia, insegna. Un uomo indemoniato lo interrompe e lo aggredisce perché si sente in pericolo. Gesù con autorità comanda lo spirito immondo di tacere e di farsene. E il diavolo esce. È un esodo, è una liberazione, è una cacciata del male. La gente rimane meravigliata. Gesù quella mattina di sabato in sinagoga ha compiuto due azioni, ha insegnato e ha liberato un uomo. È una didache accompagnata da exusia. Sono due termini molto importanti. L'insegnamento di Gesù è accompagnato dalla autorità. Non è come gli scribi che parlano solo. Gesù è uno che parla e opera, ovvero la sua parola è efficace. Effettivamente realizza quella liberazione che annuncia a parole. Non sono solo parole. Gesù realizza concretamente quello che dice. È un discorso sacramentale che Marco sta facendo. E se ripensiamo sempre a quella ambientazione liturgica della notte di Pasqua che inizia i catecumeni al battesimo, alla cresima e alla Eucaristia, comprendiamo questo tipo di sottolineatura. La parola di Gesù è efficace, esattamente come i sacramenti. Nella celebrazione sacramentale la parola realizza quello che dice. La didache di Gesù con exusia libera effettivamente l'uomo. Qui e adesso, concretamente nella nostra celebrazione sacramentale, la potenza di Dio è all'opera. Marco inizia a raccontare il ministero di Gesù presentandoci una giornata tipica a Cafarnao e segue tutta la scansione temporale di una giornata. Al mattino in sinagoga, insegna e libera l'uomo dal demonio. A mezzogiorno va a pranzo in casa di Simone. Lì gli parlano della suocera che è malata. E Marco descrive con delicatezza questo miracolo. Se fate il confronto con il racconto di Matteo potete notare moltissimi dettagli diversi e riconoscete che l'atteggiamento narrativo di Marco è orientato a presentare Gesù molto umano, affettuoso. Sono i parenti a parlare a Gesù della malata. Gesù le si avvicina, la prende per mano, quasi l'abbraccia, la tira su e la guarisce. Ed quella, riprese le forze, si mette a servire tutti a tavola. La voce che quell'uomo opera prodigi si sparge velocemente e nella sera del sabato, quando finisce l'obbligo del riposo, tutti quelli che avevano degli ammalati li portano a Gesù. La folla si riunisce a Cafarnao intorno alla casa di Simone e Gesù passa la serata di quel sabato in mezzo alla gente, compiendo tanti miracoli di guarigione. Al mattino presto del giorno dopo, mattino di domenica, Gesù esce e si ritira in un luogo solitario a pregare. È un piccolo accenno all'alba del primo giorno dopo il sabato che allude al mattino di Pasqua e alla risurrezione. Gesù si alza presto per essere con il Padre. Marco vuole mostrarci un Gesù, uomo equilibrato, che sa stare con la gente in mezzo alla folla, in sinagoga, a casa, a pranzo, sa prendersi cura delle persone, ma è capace anche di solitudine, di raccoglimento, di preghiera, di intimità con il Padre. Dopo questa prima giornata di Cafarnao, che in modo emblematico riassume tante giornate vissute da Gesù, Marco presenta una serie di cinque dispute. È una raccolta minore, cinque brani dello stesso genere letterario, dove Gesù disputa con degli avversari su questioni importanti. Prima disputa, la guarigione di un paralitico pone la questione del perdono dei peccati. Gesù ha detto a quell'uomo, ti sono rimessi i peccati. I farisei presenti mormorano, come può un uomo perdonare i peccati? Chi si crede di essere? Solo Dio può perdonare i peccati. hanno ragione. Gesù conosce il loro pensiero e interviene e spiega il senso dei miracoli. Dicendo sono perdonati i tuoi peccati non hanno visto nulla e quindi immaginano che Gesù stia semplicemente esagerando o dicendo qualche cosa di scorretto. Allora vuole mostrare agli avversari che la sua parola è efficace, perciò dice a quell'uomo paralitico alzati e cammina e la sua parola evidentemente è efficace. Tutti vedono che quell'uomo bloccato si alza, diventa autonomo, libero e può uscire con le proprie gambe. Gesù ha mostrato di avere la exusia divina. È un modo con cui Gesù si presenta come Dio. Solo Dio può perdonare i peccati, è vero. E io, cioè il figlio dell'uomo sulla terra, ha questo potere. Io ho il potere di Dio sulla terra. Ecco la presenza del regno di Dio. Nella persona di Gesù la potenza divina che libera l'uomo dal peccato è presente. I miracoli sono segno di questa trasformazione. Gesù non è venuto per guarire i paralitici, ma per perdonare i peccatori, per far comprendere che effettivamente la sua parola perdona, trasforma, rende l'uomo libero e capace di camminare con le proprie gambe, compie un gesto prodigioso. La seconda disputa riguarda la chiamata dei peccatori ed è ambientata in casa di Levi dopo che questo pubblicano è stato chiamato ad essere apostolo. Gesù si presenta come il medico che è venuto per curare i malati, ovvero per chiamare i peccatori, mentre gli avversari penserebbero ad un Messia che sta solo con i giusti. la terza disputa è incentrata sul digiuno rituale e Gesù si presenta come lo sposo. I discepoli che sono con lui sono come gli invitati a nozze. Lo sposo è presente, non si può digiunare. Dietro a queste parole ci sono importanti rivelazioni cristologiche. Gesù ha il potere divino di perdonare, Gesù è il medico divino che cura i peccatori, Gesù è lo sposo del suo popolo, titolo divino, il Signore Dio è lo sposo di Israele. Adesso lo sposo è presente nella persona di Gesù e le ultime due dispute, la quarta e la quinta, sono incentrate sul tema del sabato. I discepoli colgono delle spighe in giorno di sabato e vengono rimproverati. Gesù chiede se è lecito fare un miracolo in giorno di sabato e in entrambi i casi Gesù si presenta come il Signore del sabato. È un altro titolo divino. Gesù ha l'autorità stessa di Dio, creatore del sabato e legislatore, per cui Gesù può dire che il sabato è stato fatto per l'uomo, non è l'uomo al servizio del sabato, non cambia le regole, le interpreta nel senso profondo originale. Gesù è l'ermeneuta delle scritture, è colui che interpreta correttamente la volontà di Dio espressa dalle antiche scritture. Il sabato è liberante, non deve essere usato come una regola che schiavizza. Finita questa serie di dispute, al capitolo 3, versetto 6, troviamo la prima nota di ostilità, fine della prima sezione. I farisei usciti di lì tennero consiglio per farlo morire. Di fronte a questa sua presa di posizione gli avversari non lo accettano, lo rifiutano e progettano la sua eliminazione fisica. Il versetto successivo è un altro sommario che descrive l'azione che Gesù compie abitualmente in Galilea di predicatore seguito da tante folle. Segue immediatamente un episodio di vocazione. Gesù chiama i dodici, li costituisce un collegio, crea la loro realtà e il fine è quello di essere con lui e poi per mandarli. In questa seconda sezione Marco ha raccolto dapprima una serie di episodi in cui Gesù viene contestato, ritenuto addirittura alleato del diavolo, un emissario di Belzebul. E anche i suoi parenti lo considerano mezzo matto, pensano che sia andato fuori di testa e vanno a recuperarlo. Gesù contesta questi giudizi sbagliati contro di lui, non è indemoniato e non è matto. Il capitolo 4 raccoglie una serie di parabole. Marco ha messo insieme alcune delle parabole che la tradizione aveva raccontato come originarie di Gesù. La prima è quella del seminatore accompagnata da una spiegazione allegorica nata nella comunità cristiana delle origini. Poi quella del seme che cresce da solo e infine quella della senape. La parabola più caratteristica di Marco è proprio quella del seme che cresce da solo. È una parabola esclusiva del secondo evangelista. Matteo e Luca nel raccontano molte di più. Ma questa la racconta solo Marco ed è tipica di una prima evangelizzazione. Marco sta sottolineando come la parola di Dio sia un seme che è stato depositato nelle varie persone che ascoltano il Vangelo. Quando il contadino ha seminato non serve che sappia come il seme cresce, non serve che stia sveglio a controllare. Può dormire o vegliare di giorno o di notte il seme cresce da solo e la terra automaticamente, dice proprio così in greco, produce prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco maturo nella spiga e poi viene la mietitura e si raccoglie. È una sintesi di storia della salvezza che parte dall'annuncio paragonato ad un seme che cresce da solo. È l'annuncio all'inizio a persone estranee che cominciano ad accogliere la parola e la accolgono come un seme che produce frutto in modo straordinario, non dipende dai predicatori, non dipende dagli apostoli e nemmeno dall'evangelista. L'annuncio della parola ha una efficacia perché è Dio che fa crescere. Dopo aver raccontato le parabole Marco raccoglie una serie di racconti di miracoli. La traversata del lago con la tempesta sedata, la guarigione dell'indemoniato di Gerasa, la guarigione di una donna che ha perdite di sangue inserita nel racconto della rianimazione di una bambina di 12 anni. Una serie di miracoli che continuano a mostrare la potenza di Gesù, ma anche questa sezione termina con un episodio di ostilità. Ritornato a Nazareth, Gesù non viene accolto, si trova di fronte alla incredulità dei suoi compaesani e lì non può fare niente, è bloccato. Il tema che sta molto a cuore a Marco è proprio la incredulità, perché egli vuole invece proporre l'atteggiamento credente del discepolo. Se accogli quella parola in te può portare molto frutto. Siamo al capitolo 6 e questi primi versetti mostrano un atteggiamento di ostilità incredula. Fine della seconda sezione. Subito dopo troviamo un altro sommario, brevissimo. Gesù andava per i villaggi insegnando. E dopo un altro episodio di vocazione. Gesù chiama i discepoli e li manda, è la prima missione in Galilea. Questa terza sezione della prima parte è caratterizzata come sezione dei pani, perché il tema del pane ricorre molte volte. C'è un racconto che si duplica, speculare. Tutto avviene due volte, sembra un sistema per insistere molto su questo aspetto. Due volte Gesù compie una moltiplicazione dei pani. Dopo ciascuna di queste attraversa il lago, poi parla delle tradizioni dei farisei e mette in guardia i discepoli da quella mentalità religiosa che ha un elemento negativo. In questi spostamenti di Gesù ritorna il tema del pane. Ad esempio, mentre si trova in Fenicia, incontra una donna cananea che chiede a Gesù un suo intervento a favore della figlia oppressa da un demonio. E Gesù le dice non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Quella donna, se fosse irritabile, prenderebbe per male quello che le è stato detto. Se fosse per malosa, si sarebbe offesa e non sarebbe successo niente. Invece ha preso per bene quello che le è stato detto e dice, d'accordo, io sto nella posizione di un cane sotto la tavola, ma le briciole si danno anche ai cani. E Gesù la elogia. È una donna straniera che si apre alla fede? E Gesù le concede quello che ha chiesto. La fede di quella donna ha operato il miracolo. Mentre l'incredulità degli abitanti di Nazareth lega le mani a Gesù, la fede di questa donna straniera le ottiene la liberazione. È Gesù che opera, ma è la fede dell'umanità che lo accoglie a permettergli quella efficace liberazione. Proprio in questa sezione Marco racconta due miracoli che gli sono esclusivi. Il miracolo della guarigione di un sordo muto e la guarigione di un cieco in due momenti. La guarigione del sordo muto, con quella parola aramaica che abbiamo già visto, effatà, ha lasciato un segno nella liturgia battesimale romana, tant'è vero che noi continuiamo a ripetere questo gesto. Ogni volta che battezzo un bambino, tocco l'orecchio, la bocca e pronuncio quella parola di Gesù e ripeto una didascalia teologica. Il Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'oda e gloria di Dio Padre. Ecco il cammino del discepolo secondo l'evangelista Marco. Bisogna che il Signore apra le orecchie per poter arrivare a credere e professare con la bocca la propria fede. Siamo al culmine della terza sezione, quindi alla fine della prima parte del Vangelo secondo Marco e lì arriva la professione di fede. Chi sono io per voi? Tu sei il Cristo. Prima di raccontare questa professione di fede però Marco inserisce il racconto di un miracolo, un racconto strano di miracolo. C'è bisogno che Gesù intervenga due volte perché quell'uomo possa vederci chiaramente. È un racconto simbolico che offre la chiave di lettura della confessione di fede di Pietro, vertice della prima parte del Vangelo secondo Marco.